Dopo tanti sacrifici per la realizzazione di tre sottovia cittadini, che per utilità a livello di viabilità sono in pole position, essi cominciano ad avere qualche problema strutturale. Il sottopasso più disagiato, quello che vediamo nel video, è certamente quello di via Emilia, che presenta come gli altri due, ma in maniera molto più accentuata, delle infiltrazioni di liquidi che, visto il colore e anche l'odore, potrebbero far presagire al liquame. Il liquido putrido si trova sui muri e soprattutto sul tratto del sottovia, che si trova sotto la ferrovia e sta in qualche modo corrodendo il cemento. Comunque, sin da quando è stato realizzato l'attraversamento sotterraneo di via Emilia, c'è sempre stata una fuoriuscita di liquidi nel tratto più basso, ma mai questi avevano assunto una colorazione marronastra e un odore sgradevole. Sicuramente c'è qualcosa che non va e ciò, forse, sarebbe riconducibile ad un malfunzionamento di uno o più pompe che si trovano nei pressi del ponte di via Emilia. Grazie 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 Grazie